Lunedì 24 aprile l'Associazione Amici del Calcio Terramano organizza il premio Carmine Rodomonti con un riconoscimento particolare ad un personaggio che è rimasto nei cuori degli sportivi terramani come Giorgio Rumignani. Sicuramente sì, non è solo l'Associazione Amici del Calcio Terramano ma sono altre organizzazioni, c'è una sinergia di intenti molto importante che si è verificata in questa occasione, c'è l'Associazione Arbitri a sezione di Terramo che ha partecipato fattivamente, c'è l'Università di Terramo, c'è la Lega Pro, verrà il Presidente Gravina, c'è la Lega di Serie D, Braga, insomma sono tante altre le associazioni che hanno collaborato, noi magari abbiamo fornito la nostra assistenza logistica e organizzativa ma si tratta sicuramente di un evento importante perché abbiamo ritenuto di ricordare un personaggio che nell'ambito dello sport terramano ha dato tantissimo come Carmine Rodomonti e quindi istituire questo premio che ci proponiamo possa essere ripetuto nell'arco del tempo con la consegna ad altrettanti personaggi del calcio terramano che hanno meritato nel corso di questi 100 anni di storia. Si comincia quindi come dicevo da Giorgio Romignani perché è proprio lui? Sì, Giorgio Romignani diciamo che ha un collegamento particolare con Carmine Rodomonti perché quando Giorgio Romignani è stato a Terramo allenatore negli anni 80 in due occasioni era sempre contemporaneamente dirigente anche Carmine Rodomonti e in quelle circostanze sono conseguiti brillanti successi della squadra del Terramo un terzo posto prima e la vittoria di campionato è epica la seconda volta. La manifestazione si svolgerà nell'aula magna dell'Università di Terramo e vedrà anche un convegno, un convegno di studi e di dibattito particolarmente incentrato sulla figura del direttore sportivo. Sì, infatti questo è quello che ci premeva sottolineare. Carmine Rodomonti ha svolto nella sua attività il doppio ruolo sia di arbitro di calcio di ottimi livelli, non a caso poi da lui sono nati tutta una serie di arbitri di Terramani di grandissimo spessore, l'ultimo mi sembra sia Calvarese per esempio ma ha anche la funzione di direttore sportivo in un'epoca in cui il direttore sportivo non si conosceva oggi il direttore sportivo assume un ruolo importantissimo in una società di calcio è necessario che abbia nozioni di diritto, di amministrazione, di economia di logistica, di organizzazione, di capacità di informazione e di relazionarsi con gli organi di stampa, di conoscenze di mercato quindi è un vero e proprio professionista che va formato a nostro avviso adeguatamente e questo convegno vuole porre in evidenza questa figura.